Zozzosi, asini, cretini, cafoni e poi schiaffi, strattoni, capelli ed orecchie tirate. Era un clima di terrore, quello instaurato da una maestra d'asilo in una scuola dell'infanzia di località Santa Caterina Giffoni-Valle Piana. Le vittime erano i suoi alunni di età compresa fra i 4 e i 5 anni appena, apostrofati in malo modo e vittime di violenze. La donna, originaria del comune salernitano, è stata sospesa per un anno e non potrà insegnare. Il provvedimento l'è stato notificato dai carabinieri della compagnia di Battivaglia dopo le indagini della procura di Salerno. Per lei l'accusa è di maltrattamenti su minori. Tutto era partito da una serie di denunce presentate da alcuni genitori giffonesi che avevano notato non pochi segnali di malessere manifestati dai piccoli alunni. Stati d'ansia non solo per le vittime dirette delle condotte violente della maestra ma anche di chi assisteva. Decisive le intercettazioni audio e video dei carabinieri che hanno così potuto documentare da vicino i comportamenti dell'insegnante. Offese verbali e gesti violenti per chi disobbediva. Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto più che sufficienti gli elementi di prova raccolti da procura e militari dell'arma per disporre la sospensione dall'incarico dell'insegnante in servizio a Giffoni Vallepiana anche per evitare che simili episodi potessero ripetersi. Sotto shock il mondo scolastico ed educativo della cittadina dove da mesi si parlava sotto traccia delle condotte violente della maestra. La denuncia presentata da alcuni genitori ha fatto così scattare le indagini che hanno portato ad incastrare la donna che non potrà più insegnare almeno per un anno. La denuncia presentata da alcuni genitori ha fatto così scattare la donna che non potrà più insegnare almeno per un anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.